Buon 617esimo anno accademico. Grande responsabilità, grande tradizione, grande voglia di andare verso il futuro sempre con maggior entusiasmo. Grazie. La lezione per non perdersi nella noia della ripetizione è sempre aperta a sorprese. Era la mia prima, quindi come tutte le prime è emozionante. Bene, bello vedere tutti i togati, i docenti e comunque tutti gli amici e le amiche. Chiaramente un gruppo ristretto, però riabbracciando questo gruppo ristretto era come riabbracciare tutta la nostra comunità di quasi 100.000 persone. Simbolicamente qui appunto rappresentati con le varie rappresentanze. Bene, bello. Questo è un momento in cui parlare di futuro è un atto complesso perché da un lato usciamo da un momento molto difficile, ma forse proprio perché siamo in questa fase è importante pensare in grande. Come ho detto durante il mio intervento, volare in alto, non abdicare al nostro ruolo di guida culturale, scientifica. La società ce lo chiede, lo dobbiamo alla società, lo dobbiamo a noi stessi. Quindi un futuro di ripresa, ripresa delle attività didattiche assolutamente in presenza, ripresa e continuare nella scienza, sempre migliore. Sicuramente legata agli ambiti della medicina, abbiamo capito quanti siano importanti, ma tutti agli ambiti della cultura e della scienza.